Musica Tanta mania per tutti ragazzi, qui mi è Stef Frank che vi parla Bentornati con questo nuovo video e dopo il tutorial su come installare le mod Iniziamo a portarvi alcuni video sulle mod proprio in sé Con dei gameplay veri e propri In questo video vi mostrerò un potenziale enorme che hanno queste mod Perché come vedete abbiamo modo di utilizzare i bastoni elementali In questo caso soltanto quello del fuoco ancora Però abbiamo un modo di utilizzare i bastoni elementali anche in Black Ops In tutte le mappe zombie che ci sono Più naturalmente anche quelle accessori diciamo create appositamente dagli utenti su Steam Mi dispiace se il gameplay non è qualità super eccellente Come ho già detto nel video precedente Il mio computer non è tra i più performanti Quindi purtroppo i settaggi grafici non sono i migliori E ugualmente non so per quale motivo il programma non ha registrato l'audio Quindi non potete sentire l'audio del gameplay Ad ogni modo spero vada bene lo stesso Insomma risolverò per i prossimi video eventualmente Comunque quello che volevo farvi vedere appunto è il potenziale Che quest'arma come tutti saprete era presente in Origins su Black Ops 2 E come vedete è stata riproposta su Black Ops 3 Avendo ricreato proprio il modello In maniera impeccabile Cioè è tutto identico Uguale all'arma praticamente Di Black Ops 2 Le visuali insomma anzi migliorate con gli effetti di luce Le animazioni anche per la ricarica È la stessa così come l'audio Vi ripeto non potete sentirlo ma fidatevi di me L'audio nel momento della ricarica è esattamente uguale Così come il suono quando si spara Non so come siano state riproposte le statistiche dell'arma Cioè credo siano state leggermente pompate Nel senso il danno mi sembra un po' alto Nonostante fossi insomma round 7 Come vedete insomma round molto bassi Però mi sembra che l'area di impatto sia maggiore rispetto a quella Che era presente invece in Origins su Black Ops 2 Naturalmente è il modello non potenziato del bastone Quello elementale proprio di base Quindi non c'è il colpo caricato Però comunque come vedete insomma fa un buon danno Anche senza questo colpo caricato Soprattutto a round bassi come questo Abbiamo già visto alcuni aggiornamenti Pubblicati diciamo da alcuni membri della community Delle mod tools Ci sono appunto dei artisti Praticamente dei creatori di mappe oggetti eccetera Abbiamo visto che c'è già un utente Che sta ricreando la Regan Mark 2 La Thundergan l'aveva ricreata prima che uscisse purtroppo Revelations Quindi ha dovuto ricreare l'intero modello Purtroppo non sapendo che sarebbe poi uscito ufficialmente su Black Ops 3 Quindi purtroppo ha fatto un lavoro enorme per nulla Perché poi potrà semplicemente riprendere quell'arma lì già da Black Ops 3 Senza dover ricreare il modello Ad ogni modo poi abbiamo visto appunto la Mark 2 La Regan Mark 2 Alcuni hanno già aggiunto la possibilità di usare ad esempio la Regan Mark 1 Come akimbo Come doppia arma Quindi ci sono veramente tantissime possibilità Sia per creare oggetti ex novo Sia per riproporre oggetti invece delle vecchie mappe Sicuramente amati da tutti quanti Comunque questo era tutto per questo breve video Aspettatevi altri video sulle mod Probabilmente anche una streaming a breve Quindi un saluto a Mr. Frank Ragazzi state sintonizzati per nuovi contenuti Sempre sulle mod E con l'arrivo imminente della mappa Revelations Su Xbox One e PC Scopriremo se c'è questo super easter egg o meno E in caso ci sia Come mi auguro caldamente E come credo Vi porteremo tantissimi contenuti anche su questo nuovo easter egg Comunque un saluto a Mr. Frank Ragazzi noi ci vediamo con un prossimo video Ciao 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 Ciao